Dal mese di maggio 2023 i bollettini mensili del patrimonio immobiliare del comune si dovranno pagare con Pago.p.a. Gli aggiornamenti tecnici necessari per il rispetto della normativa nazionale porteranno alla temporanea sospensione della bollettazione. I pagamenti non saranno più possibili tramite consueti metodi, né saranno validi i bollettini eventualmente già emessi. I bollettini premarcati maggio 2023 saranno recapitate alla fine di maggio con scadenza giugno 2023. Non saranno possibili pagamenti parziali dell'importo indicato nell'avviso ricevuto. Pago.p.a. è un sistema che consente pagamenti verso la pubblica amministrazione in modo semplice, sicuro e trasparente. Per usufruire del servizio basterà utilizzare la bolletta con l'avviso per il pagamento che potrà avvenire o presso i canali fisici, uffici postali, banche ed esercizi che accettano i pagamenti Pago.p.a. oppure online tramite l'home banking. L'elenco degli operatori e dei canali abilitate a ricevere i pagamenti tramite Pago.p.a. è disponibile sul sito www.pagopa.it. Per informazioni info-napoliservizi.com numero verde 081 197 03 900